di me cosa ti piace di più amore la mia bellezza la mia incredibile intelligenza o la mia sincerità il tuo senso dell'umorismo giochiamo a dottore sì mi sbaglio no ti scrivo una ricetta e tu devi decifrarla non è il caso di provarci forse non le piaccio è titubante probabilmente non le piaccio abbastanza che coglioni non fossi castrato mi sarei fatto entrambi vieni in quella stanza buia con me non ci penso nemmeno e dai solo per poco ho detto di no dai che ti voglio mostrare una cosa che ti stupirà e ti farà impazzire vabbè dai vengo e quindi cosa volevi mostrarmi lo zaino di bastardi dentro che si illumina al buio ciao bellezza ti offro un cocktail in cambio dei tuoi pensieri davvero stavo pensando vediamo come posso farmi offrire da bere da questo tamarro perfettamente ciao 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 ciao